Un bambino è un paziente particolare quando si parla di odontostomatologia, perché è un bambino che ovviamente è un paziente che è carico di paure, di ansie, di angosce, la paura del dolore. Quindi avere un medico che è in grado di gestirlo in maniera adeguata e tempestiva è una cosa stupenda, veramente un'occasione d'oro. A Chioggia è nato il pronto soccorso dentistico. Oltre a curare le urgenze, eroga prime visite maxillofacciali, odontostomatologiche, prestazioni ambulatoriali di routine e consulenza per i pazienti dei reparti che ne necessitano con monitoraggio di bambini e ragazzi in età evolutiva. Da oggi possiamo garantire un nuovo servizio come ospedale, come ULS per i cittadini chioggiotti del territorio. possiamo offrire un servizio di odontostomatologia specialistico che funziona praticamente H24, perché io sono il primario della pediatria, i bambini che dovessero venire da noi per un problema urgente dentario possono rivolgersi al pronto soccorso centrale che poi li indirizza a questo ambulatorio. È un'opportunità per tutto il territorio dell'azienda e in questo caso questo territorio in particolare che non aveva un servizio completo in questo settore, nel settore dell'odontostomatologia, è stato colmato. L'ULS 3 prevede un afflusso di circa 4.000 pazienti l'anno. Massima attenzione anche nei confronti dei pazienti disabili che godono di una strumentazione odontoiatrica apposita per chi ha una disabilità motoria con nuove poltrone dedicate che consentono il trattamento del paziente in carrozzina con sollevamento e inclinazione in massima sicurezza. Nasce dall'esigenza di rispondere all'utenza. L'algia odontoiatrica non è un'algia facilmente sopportabile dal paziente per cui è giusto che ci sia una risposta da parte di un ospedale, di una struttura.